Il mercato generale di Piazza Verdi a Teramo è una struttura risalente agli anni 70. Prima di allora le tantissime bancarelle di ortofrutta e vestiti affollavano ogni mattina l'intera piazza del centro storico. Le allora amministrazioni pensarono di costruire un immobile per togliere dal freddo gli ambulanti. Ottima idea, ma da allora quell'edificio si è lentamente deteriorato e senza la dovuta manutenzione ha perso negli anni la quasi totalità di attività commerciali. A soffrirne l'intero quartiere di Santa Maria Abitetto, cuore antico della città. Oggi vi restano 20 esercizi a vendere frutta e verdura fresca e la pescheria al piano terra. Il mercato coperto di Teramo ha rappresentato per ogni sindaco che si sia succeduto in questi ultimi 30 anni una spina nel fianco. L'immobile, non bellissimo, occupa un grande spazio ed è praticamente adiacente al teatro romano. Il futuro recupero del prezioso bene archeologico mette questa amministrazione di fronte al dilemma su come gestire l'edificio in cui si trova oggi il mercato generale. Chiuderlo? Abbattere e ricostruirlo? Il sindaco d'Alberto sta affrontando la situazione e ha già messo in agenda un sopralluogo ufficiale. Al mercato oggi si respira amarezza e delusione. Dove andrebbero a finire i commercianti che hanno vissuto tutta la loro vita lì e cosa accadrebbe al centro cittadino privo di questo antico punto vendita? Una soluzione ci sarebbe e arriva dalle nuove generazioni che lavorano proprio nella struttura. Il mercato andrebbe ristrutturato, rivitalizzato, concedendo gli spazi chiusi a giovani start-up che vogliono aprire punti vendita di alimentari, panifici, bar e ristorazione. L'area del fresco resterebbe aperta di mattina, la restante zona anche pomeriggio e sera. Un progetto moderno, sperimentato con successo in molte altre città italiane, che porterebbe movimento e benessere. Teramo ha bisogno di trasformarsi e reinventarsi. Il mercato coperto non deve essere chiuso.